L'inizio dei lavori di Via Rosa Luxemburg è stato annunciato per la primavera. Noi vogliamo bloccare questi lavori, abbiamo raccolto 500 firme e stiamo raccogliendo ancora per presentare in Consiglio Comunale una mozione di iniziativa popolare che blocchi i lavori e che avvia un percorso di partecipazione dei cittadini alle scelte sul destino di quest'area. Le firme sono già state consegnate all'amministrazione comunale e aspettiamo che venga calendarizzata la mozione. Noi vogliamo quindi rimettere in discussione questo progetto e vogliamo che i cittadini diventino protagonisti delle sorti della città. In particolare questo è un progetto particolarmente invasivo che quindi deve essere contrastato e messo in discussione ma ci sono altri progetti che riguardano la città, altri progetti di urbanizzazione e di edificazione come quello di ospizio su cui noi vogliamo poi in seguito aprire un'avvertenza e quindi chiamiamo i cittadini a sostenerci nella discussione di questa mozione in Consiglio Comunale.